Ciao a tutti e a tutte e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Liberamente in Camper. Il sito noleggiareuncamper.it, dedicato al mondo del noleggio del camper, ha tra i concessionari più accreditati Fustinoni Sport. Nella figura di Cristina Fustinoni oggi andiamo a scoprire uno dei veicoli più amati nel noleggio. In gergo io e Cristina lo chiamiamo il bananone. In realtà si tratta di un Knauss su base Mann. Bananone? Allora, qua vogliamo esagerare. Diciamo perché lo chiamiamo in gergo, sono noi due mi sa, bananone. Ma diciamo il bananone perché il ciuffolo... Intanto lo chiamiamo bananone in modo simpatico per via di questa mansarda sopra. Ma cosa ha questa meraviglia di Mann 600XL? Penso che l'abbiate vista in ogni salsa, in tanti video, perché ve lo sognate di notte, lo sappiamo, è bellissimo. Però, letto basculante, matrimoniale nella parte più di noi. Qui sopra nel bananone appunto, ben isolato e riscaldato e rinfrescato, ovviamente, illuminato il letto matrimoniale a scomparsa. Quattro posti, quattro posti letto. Sempre un discorso di cambio automatico, sempre di meccanica eccellente Mann. E tutta la dotazione di cui, giustamente, Knauss può dotare un mezzo, dalla porta danzariera, al tendalino, ai cerchi in lega, tutto quello che volete, dentro dal vecino, nella parte posteriore. È il vostro sogno, realizzatelo, almeno a noleggio, da Fustinoni Sport, giusto per partire. Senti, io qua sul tavolo ho visto un listino prezzi. Ok. E tutto quello della gamma Fustinoni. C'è un po', esattamente, non l'abbiamo ancora, diciamo, è pubblicato sul nostro sito, quindi chi va su FustinoniSport.com se lo può vedere, può vedere, diciamo, le clausole, i chilometri, le assicurazioni, eccetera, eccetera. I mezzi a noleggio di questa categoria sono, diciamo, o i furgonati lusso, o i semi integrale lusso. Comunque partiamo dai 120 fino ai 190 euro ad agosto. Tutte le clausole. E poi c'è la formula weekend, invece, che è molto interessante, soprattutto in bassa stagione, perché ti permette di vivere il veicolo senza avere un costo proibitivo per tutto il weekend. Quindi noi lo aspettiamo a provarlo per un weekend, per il Pasqua, per le prossime festività. Dove rimane Fustinoni? Ce lo ricordiamo. Insomma, lì c'è una strada che è molto trafficata. Mi lasci chiudere, almeno andiamo a vedere. Allora, Fustinoni Sport e Curno, Bergamo, a due passi dall'uscita autostradale di Dalmine, quindi se ci venite a trovare, comunque, googolateci, trovate immediatamente. Fustinoni Sport, Caravani Camper, Curno, Bergamo.